Insieme al Garmin GPS MAP 922 riceverete una cover che protegge il dispositivo dagli agenti esterni. Il GPS MAP 922 offre una profondità di installazione molto ridotta e diverse possibilità di collegamento. Nella confezione è incluso anche un pacchetto con documentazione e accessori, staffa di montaggio, guarnizioni, coperture, materiale di fissaggio e cavo di alimentazione Nemea 0183.